Ciao a tutti ragazzi, io sono Papagra Magico e oggi ci siamo a Join the Triger, che bellissimo gioco E ora mi metterò la skin di Fornet, eccola qua Sì, la skin troppo Di Fornet e andiamo Perché mi vengo schiacciato? Mi vengo schiacciato Che praticamente L'ombiamo, è lagga, come sempre Dobbiamo uccidere questi qua E quelli che dicono Erp Non li dobbiamo sparare perché vuol dire aiutami E vabbè Guardate che figo Lagga un bot Perché lagga? Perché lagga? Ok E praticamente questi qua Sono i nostri colpi E l'ho mancato, mi uccide Allora Ma poi la candola vuole candola perché mi vedo schiacciato E mi vedo schiacciato Faccio così E l'ho mancato E l'ho mancato Perché lagga un bot? Ragga, guardate perché ve la lagga Poi ho cambiato anche il webcam Ragga, ok Penso che ho sistemato Ma non so di tutto Però non ho potuto cambiare il webcam Perché mi dice che non posso cambiarla Mentre sto a fare il video E qua dicendo Questo lo metto qua dietro Ok Perché mi abbassa la lumina Ok Andiamo 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 Vediamo che lagga Per favore Non dimmi Mi lagga Vabbè Dobbiamo andare così Ragga Non ho mai laggato Salto mortale No L'ho mancato A me ne ha ucciso quello Ragga Troverò un modo per farvi giocare Per farvi vedere come Come Per farvi vedere Come gioco su forr Oh Forse lo so Quale abbiamo Questa pubblicità Smettila Qua è la connessione Vero 5 4 3 2 1 2 2 Ah Ficiamo così Tutto è morta nera Ok Salto è mortale Quello è difficilissimo però Proviamo Cioè Non fai neanche Oh È lagg Un bot Questo qua Siamo anche Quello che mi uccide Laga Comunque non vi ho detto Oggi facciamo Un video Su tre giochi Ok Smettila Carmine Smettila Ok Ma Barsi come lag In questo gioco Cambiamolo E La vado a cambiare Raga Eccolo Il gioco E Ora Potete vedere Il nome Di sto gioco E potete anche Vedere Se vi piace Così Vedete Questo qua Tutto è il nome Rizer Up Se vi piace Lo potete caricare E quello là Già L'avete Ve l'ho detto E lo potete anche Vedere attraverso La schermata Se si muore qua Oh Uh Ah si In questo gioco Non ci ho mai giocato L'ho lasciato Da qua Tanto 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 Tempo No Proprio Tanto Tanto Va tanto Non c'è Che ho detto Ma vabbè Ok Select Select Buona Select Ok 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 Ti ho detto E che devo fare Vado alla casa Ok 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 Laga smettila Praticamente Deve proteggere Sto pallocino Con questo pallino Io so il pallino Che lo muovo Proteggo il pallocino Via Via Laga 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 E smettila Hai sentito che bot Sono sendo come un bot Parapara Ho scoperto il segreto Di andare qua E basta Questi costi Via dal mio pallocino Via Via Il mio pallocino Via Laga Laga Via 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 Rivela 2 Uuuu Ma me l'ha preso Ah non la prende Checkpoint Ovviamente non la prende Facciamo così E non Aaaaa Ado oggi ho già sto gioco E smettila Che muover Ho il 72 Che vuol dire Iiii Ma mi laggo Non so come faccio A proteggere Via Via E mi lagga E mi lagga Vai Mi lagga Mi lagga E mi lagga Via Via E mi lagga E no Non mi piace Intanto tutto A che sto gioco A questo gioco Che mi lagga Non lo so Via Oh C'è un valore Via No 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 Via Come si Nivello 2 Nivello 2 Via Oh Laga Oh Come faccio Quel pallone gigante Via 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 E vabbè Via 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 Vabbè Ma sto gioco Non ha neanche un rumore Che senso No Ah 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 livello 1 porca miseria impossibile cioè poi perché devono cadere nel giusto momento che non può venire una valanga di sti così così lo schifo facilmente invece vedete ho spacca sti cosi livello 1 via 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 e vale toccato ma ha preso check point ho preso check point più totale bravo adesso tu vai di là va no ok la ok va giallo bravo ma non mi piace cambiamo gioco raga ok no non mi dico in questo gioco lag ah comunque non mi ha detto il gioco il nome di sto gioco lo dico a fine video perché ora non l'ho visto ok ah sì i soldi che ho fatto offline sto gioco è bellissimo voi non sapete quanto è bello ora vi faccio vedere i soldi che ho fatto mi migliora la velocità di quando mi butta la rampa ora faccio la ok vai pronti buttati mi dai non la gara ok questo dove c'è il raggio che c'è scritto turbo quello la e la benzina che abbiamo praticamente non vieni vieni vai il migliore da un biondo migliore migliore dimmi che ci sono andato di poco di poco di pochissimo ci sono andato mamma mia aaaaaaah non è bello ah è male ah vieni qua vieni qua che è fai la rimane qua che ha fatto ma no ah un po' bellino vieni qua vieni qua dai il migliore il migliore mamma mia e vabbè il rimane qua lo capisci non lo capisce perché è un cane i cani sono intelligenti eh perché ne sai perchè sono stupidi nooo allora oh nooo la rampa la rampa nooo di pochissimo allora ma mi migliora così allora che mi posso migliorare vediamo allora la razza qual è la razza di cani più qual è la razza di cani più più forte del mondo bulldog non ha senso non ha senso non ha senso senso guarda quella ero lassù guarda quella ero lassù e vai lagati brutta e usa tutti il turbo mio guarda 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 autofull no 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 levo il camion muoviti a levare quel camion alla macchina muoviti 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 si ora vi dico il nome di sto gioco eh faccio un taglio e ve lo faccio vedere cosa è arrivato al migliore allora raga raga comunque questo il gioco si chiama si chiama dove sta questo qua eh che si chiama spazio in subicente ah si è questo qua ora vi faccio vedere qua si chiama si chiama e aspettate che mi faccio una cosa metto questo qua nel suo posto e allora e a tutti i campionieri iscriveteci e ci vediamo in un prossimo video ciao ciao